Mi ha perduto il mio caro Mi ha perduto il mio caro Mi ha perduto il mio caro Allora era giù Credo di sì Al massimo Ok guardalo Lugo Oh mio Dio sui stanno i chiodi stanno i chiodi sui Dove sei passato Lugo? Usui Oh mio Dio Ok Dopodiché No vabbè Eh regà non lo sapevo Dai 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 non fa niente Respondiamo subito Avevo visto che bisognava fare un cambio wallride Solo che era troppo tardi Sui fa un po' d'attenzione Ok ci riproviamo State tranquilli Su sui Aiuto Ok siamo vivi Allora Madre mia Ci siamo Dove? No regà Quasi 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 Sentite mettiamo la visuale più lontana Perché non riesco a capire dove tagliare il wallride Ha messo Il ricaricatore di turbo Però non si capisce Nada Ce la fa salire? Sì Praticamente mette Quel turbo della Voltic Che è giallo Per capire dove bisogna cambiare il wallride Però Non si capisce Nada Ugualmente Regà Non ci voglio credere Oh Miracolo Zitti 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 Regà che ce l'ho fatta Ci ho messo tantissimo Uh cos'è Ok Ci siamo Dove siete? Eccolo qua Lugo Ah X-A21 Meno male Che è meglio Lo sui laghi leggermente qua Ok Che spettacolo di parte Ma dove sta Romanaccio? Sparito orzuino Aspettate che adesso si recupera Ok Leviamo questa visuale Che non mi piace Aiuto Madre mia Siamo vivi? Ok Cosa devo fare? No Regancio io crede Pure i container Allora Dobbiamo stare dritti Ok Ci sono pure Cambi World Andiamo Proviamo la visuale Così Così Madre mia Ci siamo Dritti eh Dritti 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 Speriamo che siamo dritti Credo di sì Ok Ok No No regà Non può mettere questo ultrafino qua però eh È allucinante Aspettate Basta che rimaniamo dritti però Ero sotto sopra quindi Avevo perso leggermente L'orientamento Ok Perfetto così Dai ci riproviamo Allora Siamo dritti Non tocco niente Siamo dritti pure qua Qui dovremmo essere dritti Perfetto così Ci siamo Sì che ci siamo Tu che sei romanaccio Tu ti trovi Credo che sta qua sopra Aspettate Andiamo Cosa c'è da fare qua? Freno freno L'ho visto L'ho visto L'ho visto Asui se magari prendevi sto freno Mi facevi in favore Aspettate Respondiamo Adesso ho preso il freno Ci voglio credere Mentre scendevo Ho sentito rumore Ok Stiamo che Al Mi Nada Ma regà A volte Ho problemi con i freni Però non sempre Allora Vediamo così Sì sì Tutto ok Sbagliavo io regà Rigiriamoci con stile Ma romanaccio Dove è finito Wow Wow Guardate che parte Qui dobbiamo rigirarci Ok Sparito Non si trova più Così Aiuto Sì però Dobbiamo farla meglio Questa parte Front flip Che dite? Wow Ci siamo Atterriamo bene Olè Toglio sui Madre mia Ci siamo E ora Cambio Wall Che sbaglio No regà Non ciò Io credo Io credo Io credo Erika È una gara Bella scorrevole Bella Trollosa Bisogna fare attenzione Qua Ok Aspettate Andiamo Dai regà Non posso sbagliare Quei cambi Walleride Però Ok Sì Sì Ne manca un altro Wow Ci siamo Dove sta Romano Dove sei? Dove sei? Sui Dimmi che ti ho recuperato Sui Non lo vedo Dove sta? Non lo so regà È un mistero Cosa C'ho io Crede Dove sei Romano? Non lo so Dopo questa parte È finita la chiara Hai vinto Sui Ok Aspettate Aiuto 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 Bella questa parte Però Ok Oh mio dio Ah no Primero Dove sta Romano Ah Sta provando questa parte Anche lui Olè Il primo Mi è andato bene Sì 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 Setti tutti C'è qualche altro cambio Sì Ci siamo Dai 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 sui L'ultimo Wow Tutto ok 13 minuti Dove sei Romano? Dove sta Arzuino? Guardalo Ah sui Ma che te freghi Le primere Mannaggia a te Aspettate Non lo sui Vai Carità Io sono rimasto Leggermente trollato Soprattutto all'inizio Non ci voglio credere Comunque adesso Avviamo un'altra gara Dai sui Prendite sta Primera Dai sui Aspettate Sui Veloce Veloce Dai guarda che trolla Te butto giù Se te butto giù qua Credo che devi fare tutti i waller I denti conviene Dai sui Vai 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 Ok Dai che ce la faccio Olè Prossima gara Ok Seconda gara Questa gara è stata creata da Misha Vi lascio il suo canale in descrizione Siccome non abbiamo vinto il level germane numero 2 Dobbiamo vincere questa gara di Misha Andiamo Veloveloce sui Romanaccio Ma fregata Primera Ce la voglio crede Flippo Bravissimo Oh rega Ma quanti siete C'è un po' di attenzione Ho messo senza collisioni Così non rimaniamo trollati Ci arrivi sui Olè ci siamo Belli veloci Belli veloci Qualcuno è pure esploso Allora Vediamo un po' Com'è questa bella caritta Non cadere giù Andiamo Cambio wallride Ah rega guardate nella miniatura Cioè scusate Nella miniatura Ho visto quel wallride Ondulato Impossibile Olè ci siamo Dopodiché qua Uh frena 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 sui Olè Sei rega Già comincia Miniatura 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 Ok Sei rega È impossibile Mamma mia Già è difficile fare Un wallride Fino Figuriamoci Ondulato Fino Madre mia Eh rega aspettate Qua ci dobbiamo concentrare È veramente tanto Troppo difficile Intanto siamo belli per i meriti Ok C'ho la terza visuale Credo di sì Forse è meglio Meglio la prima visuale Sapete Aspettate che adesso proviamo Questa qui Vediamo se questo è meglio Dai sui Dai sui Eh rega Mi devo riscaldare Più che altro Nei wallride Fini Ok Credo che sia arrivato Pasqua Intanto Aiuto Aiuto Oh Sì Sì Stai su No rega Quasi 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 Dai non è così difficile però Veramente Dopo un po' Non capite più nada Perché Pieno di slalom Ok Sì Madre mia Rega Madre mia Madre mia Madre mia Ce l'abbiamo fatto Ancioio Che era idea Ok Che bella stradina Wow Spettacolare Oh 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 rega Come ho salvato la macchina Ok Rimettiamoci bene Aspettate Aspettate Andiamo Dopo cosa c'è da fare Aiuto Prendiamo questo bel check Non mi chiedete niente Andiamo al massimo Ah no per forza al massimo Aiuto 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 Come il traguardo Eh io ovviamente mi trollo qua alla fine Ok rega Ho vinto la seconda gara Stanotte posso andare a dormire Sta scherzando Aiuto Comunque Mamma mia Che wallride Ma Ah io dico eh Dai sui Per favore Ok Rega C'ho le mani di ricotta Veramente Sono riuscito a fare quel wallride Non riesco a fare questa parte Ma si Ce la facciamo Facciamo per un po' i coati Prendiamo questo bel check E andiamoci a prendere Questa bella Primera Posizione Comunque sia Se vi sono piaciute queste gare Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate al mio secondo canale Big Pork E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Al prossimo video Grazie per la visione!